ciao in questa lezione continuiamo lo studio degli accordi maggiori in posizione aperta e applichiamo una serie di figurazioni di pennata ritmica in quarti ottavi combinati agli accordi maggiori che abbiamo studiato fino a questa lezione o sulla quarta corda come nel caso del re maggiore andiamo quindi ancora una volta eseguire l'esercizio dapprima con la pennata in quarti e quindi con la pennata in ottavi